La Romagna continua ad essere grande protagonista dei campionati europei di Glasgow. Dopo il bronzo di Scozzoli nei 50 Rana, è toccato a Ilaria Bianchi il compito di salire sul podio scalando un ulteriore gradino, quello che ha portato la Castellana a indossare la medaglia d'argento nella finale dei 200 Farfalla. Una gara ancora una volta a pannaggio dell'imbattibile Katinkaossu, quella vinta ma non dominata dall'inarrestabile ungherese che ha sofferto l'ottima condizione dell'atleta del Limo Lanuoto. Proprio nel finale è arrivata l'accelerata decisiva con Ilaria che può comunque gustarsi un'altra medaglia di prestigio da aggiungere alla propria collezione. Chi invece si è dovuto accontentare della medaglia di legno è Simone Sabbioni. La finale dei Cento d'Orso è andata in archivio con un quarto posto che sa più di rivincita che di delusione, visto che il Riccionese è apparso rigenerato rispetto ad una semifinale vissuta in tono minore. Simone chiude quarto staccato di appena tre centesimi dal rumeno Glinta nella gara vinta da Koleshnikov su Diner e adesso proverà a rifarsi nei 50 d'Orso.